Siamo con Pasquale di Genova, presidente degli arcieri Turris Maior di Tore Maggiore. Da cosa nasce l'idea di creare questo costrometraggio dedicato a Federico II di Sbevia? Allora, questa è stata un'idea che avevamo già da tanti anni. Praticamente noi siamo amanti della storia e l'associazione ha 24 anni ormai ed è basata tutta sulla storia di Federico II. Ci siamo chiesti perché non far vedere un qualcosa di visivo di come è avvenuta tutta la storia della sua morte. Allora, lavorando nell'azienda in cui nelle circostanze ci sono delle boscaglie dove effettivamente Federico II venne a caccia, è nata questa idea proprio da questa situazione qua. Allora, ho coinvolto come sempre tutto il gruppo arcieri, grazie pure al nostro amico Andrea Maiorano che tra l'altro fa parte anche degli arcieri, al quale lui ha accolto subito quest'idea e l'ha messo sulla carta. Ha creato questo copione da seguire e poi insomma da questo è nato tutto il resto. E abbiamo qui anche l'assessore alla cultura del Comuneditore Maggiore Legna Coppola un'iniziativa molto importante anche per promuovere il nostro territorio. Assolutamente, si aggiunge un altro tassello alle tante iniziative dedicate a Federico II di Svevia. Questa è una delle più importanti a mio parere perché andiamo così a racchiudere la storia e a preservarla praticamente nel tempo, raccontando attraverso un cortometraggio quelli che sono stati i momenti finali della vita di Federico II. Una vita davvero che ha dato tanto a quelle che sono state le città federiciane ma ha dato un assetto importante anche a livello di politica europea. Quindi questo è un tassello importante che oggi gli arcieri raggiungono e che ovviamente hanno il patrocinio morale della città di Torre Maggiore che è una delle città federiciane per eccellenza poiché Federico II appunto nel 1250 morì in Castelfiorentino, quindi in agro di Torre Maggiore. Qui, come ha detto prima Pasquale, c'è anche il famoso Andrea Maiorano che compone poesie e tu hai dato anche una mano nella scrittura di quello che doveva essere detto nel cortometraggio. Per me è stato un onore essere stato chiamato da Pasquale di Genova essendo anch'io un membro dell'associazione Turris Maior praticamente Pasquale è stato molto esigente voleva praticamente qualcosa di emozionale oltre che storico perché la storia è già risaputa quella di Federico II, il grande imperatore del Sacro Romano Impero e quindi gli servivano le ultime settimane di vita concentrarci proprio sulla drammaticità di questo evento e quindi ho cercato di enfatizzare su alcuni momenti e poi portare un po' di malinconia dove serviva. Gli ho fatto leggere il testo, lui molto emozionato si è subito attivato e ha chiamato il grande Michele Creanza che è il regista che poi monterà tutto e verrà sicuramente qualcosa di straordinario e in più siamo onorati di avere anche Frank Cipponi il grandissimo attore, molto conosciuto anche lui. Grazie. E abbiamo qui il Federico II che sarà nel cortometraggio dedicato a Federico II una bella iniziativa. Sì, l'iniziativa è molto bella innanzitutto io ringrazio l'associazione Tourisme Ior per avermi invitato e coinvolto in questa bellissima iniziativa anche perché per me è stata un'esperienza completamente nuova avendo interpretato sempre ruoli d'azione e via discorrendo questo di interpretare un personaggio così importante e storico è stato per me innanzitutto un onore oltre che una novità e ragion per cui sono veramente felice e onorato di interpretare questo ruolo e grazie ancora a tutti gli organizzatori Pasquale, tutti, tutti quanti e un grazie al regista Michele Creanza che con il suo tocco artistico sono convinto che darà un'immagine molto molto bella a questo cortometraggio grazie ancora a tutti quanti voi E abbiamo anche qui il regista di questa iniziativa come si è sentito quando hai ricevuto il messaggio di questa richiesta? Allora, buongiorno a tutti io sono emozionato di aver partecipato alla realizzazione di questo cortometraggio che è stato commissionato dall'associazione Tourism Warrior del presidente Pasquale di Genova e con il testo scritto dal grande Andrea è stato bravissimo anche ha curato i minimi particolari di come doveva essere gli ultimi giorni di Federico II di Svevia questo cortometraggio abbiamo fatto una ricerca non l'ha fatto mai nessuno e questa è la prima volta e noi ci stiamo dedicando fino in fondo per realizzarlo nei migliori modi possibili dobbiamo fare un qualcosa molto precisa dobbiamo fare un qualcosa molto realistica e ce la stiamo mettendo tutta anche sotto questo cielo seminuvoloso e ventoso però ce la stiamo mettendo tutta gli attori e tutti quanti sono contentissimi di aver partecipato a questo cortometraggio nel 1250 morì Federico II di Svevia qui a Torre Maggiore nel Castel Fiorentino ed è un luogo così importante perché l'imperatore è l'imperatore che ha unito i quattro popoli senza aver fatto aver fatto fare una guerra tra di loro però quattro popoli è un qualcosa che adesso nel presente ci sono tanti tanti presidenti dove vogliono essere loro i primi sulla terra e vogliono fare guerra da uno all'altro da un popolo all'altro mentre Federico II di Svevia con tutto il suo sapere con tutte le sue lingue parlava diverse lingue e quant'altro aveva fatto tanti esperimenti della natura gli piaceva molto cacciare li univa a tante vere nel cortometraggio voglio anticipare si vedranno e si vedrà arcieri teotonici templari saracini dove si è visto mai tanti militari diversi di tante nazioni uniti tra di loro però seguendo sempre le proprie tradizioni che l'uomo di Svevia